Emiliano Franco, alla batteria, da Londra, anche se è campano come tutti noi, penso. Io sono Andrea Rea, grazie. Per noi abbiamo il piacere e l'onore di suonare con Michael Martins, dal portogallo, da Faro. Io pensavo fosse Lisbona, invece lui è di Faro, del sud della Lisbona, del portogallo, che è diverso. Infatti lui mi spiegava, il sud di ogni nazione è completamente diverso dal nord. Effettivamente siamo tutti d'accordo, no? Esatto, è molto più creativo. Allora, questa sera suoneremo un bel po' di standard della tradizione americana. Vi prego di fare particolare attenzione perché suoneremo a volumi abbastanza bassi. Quindi se fate silenzio, riusciamo a suonare meglio anche noi. Ok? Iniziamo con un brano molto famoso della tradizione jazzistica, che si chiama How Deep Is The Ocean, che suonava Bill Evans, che poi hanno interpretato in maniera egregia cantanti come Billy Holiday e tanti altri interpreti del jazz. Buon ascolto! Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.